Buongiorno a tutti amici di YouTube, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come si comportano i cabinet Thunderbolt 3 con la scheda grafica esterna collegata ai nostri portatili e andremo a confrontare i risultati ottenuti con Windows attraverso Bootcamp oppure con un desktop con quelli ottenuti in OS X. Alcuni di voi nello scorso video mi hanno chiesto perché non ho inserito all'interno dei tempi di rendering anche quello con la sola CPU del computer che processava tutti i calcoli. Il motivo è molto semplice, la CPU tendenzialmente è molto più lenta di una qualunque scheda video, ovviamente scheda video recente. Comunque per questo video ho deciso di integrare anche i risultati della CPU all'interno della comparazione. Allora, come potete vedere dal grafico abbiamo sulla destra il Ryzen 9 che è un processore 12-core, sto parlando del modello 3900X AMD, che chiaramente è molto 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 più performante rispetto all'Intel Core i7 6-core del MacBook Pro con il quale abbiamo fatto tutti i test. Questo per dire che chiaramente i processori multi-core, specie quelli ad esempio AMD nuovi, parlo del Threadripper, parlo del 3960X e così via, hanno un notevole vantaggio rispetto ai processori Intel di scorsa generazione con meno core. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che i tempi di rendering, se vi ricordate quelli mostrati nello scorso video, sono molto molto più alti con il rendering attraverso la sola CPU. In effetti, se vi ricordate, con la Descript GPU in OS X avevamo ottenuto un tempo di rendering di circa 14 minuti. Qui invece con il Ryzen 9, che è un processore veramente molto costoso, di alto livello, abbiamo 22 minuti. Quindi, nonostante il processore sia molto valido, non riusciamo a competere con una scheda grafica. E tenete conto che la 560X non è certo un mostro di potenza e sicuramente non è neanche particolarmente nuova. Benissimo, quindi confrontiamo i tempi. Allora, in OS X il tempo di rendering è di 1 ora e 4 minuti. Invece in Bootcamp, quindi sempre con l'hardware del MacBook Pro, abbiamo un tempo di rendering di 1 ora e 10 minuti, quindi leggermente di più. E invece il Ryzen 9, il 3900X, arriva a 22 minuti e 26 secondi, che chiaramente è un ottimo incremento rispetto alla sola CPU del MacBook Pro. Però tenete anche conto che ovviamente il 3900X è un processore desktop, quindi ha un TDP molto molto più alto di quanto non possa mai avere un processore mobile. Benissimo, passiamo al prossimo risultato. Se vi ricordate, nello scorso video la configurazione peggiore era quella con la sola scheda grafica all'interno del MacBook. Quindi non sto parlando della eGPU, che sarebbe integrata con il processore. Non sto parlando della eGPU, che è quella connessa con il cavo Thunderbolt 3. Sto parlando della Radeon 160X, che è una scheda grafica discreta sempre all'interno del MacBook. E in effetti aveva perso con circa 14 minuti e 48 secondi di tempo di rendering. Ripetendo lo stesso test anche con Bootcamp, otteniamo un risultato più o meno analogo, come ordine di grandezza, perché arriviamo a quasi 20 minuti con 19 minuti e 41 secondi. Quindi da questo secondo test ancora una volta riusciamo a vedere che a parità di hardware la performance in Bootcamp attraverso Windows, per tutta una serie di motivi, che potrebbero essere il sistema operativo più pesante, migliore gestione delle risorse attraverso macOS, piuttosto che una peggiore implementazione del plugin di rendering, tutta una serie di cose mi portano ad avere OS X leggermente più veloce a parità di hardware rispetto alla controparte in Bootcamp. Perfetto, adesso passiamo al terzo risultato, che poi di fatto è quello che probabilmente più vi interessa. Nel terzo grafico andiamo a confrontare tre configurazioni diverse. La prima è quella con Bootcamp, con scheda grafica 560X Radeon, integrata con il cabinet esterno Thunderbolt 3 con la Vega 64. Con questa configurazione arriviamo a un tempo di rendering di 4 minuti e 34 secondi. Benissimo, invece la seconda configurazione, che è poi anche quella che si è rivelata essere quella più veloce, è con OS X, con la scheda grafica 560X Radeon, quindi la scheda grafica discreta, più la scheda grafica esterna Vega 64 attraverso cavo Thunderbolt 3. Fa comunque bene anche il computer con la sola Vega 64 attaccata nello slot PC direttamente all'interno della motherboard. E questo è un risultato che a dire il vero mi ha leggermente sorpreso, perché sulla carta mi aspettavo che avrebbe vinto, in quanto il PC così configurato aveva un processore molto più performante e in più aveva anche una banda passante della connessione PC molto più alta rispetto a quella garantita dal cavo Thunderbolt 3. Quindi io mi sarei aspettato che Windows con un hardware tra virgolette desktop avrebbe vinto. In realtà si è rivelato essere leggermente più lento della versione con OS X e GPU Vega 64 e Radeon 560X. Probabilmente perché non solo ho la scheda Vega 64, che è comune a tutte e due i setup, ma ho anche una seconda scheda grafica aggiuntiva che in qualche modo mi va ad alleggerire i calcoli della Vega e me la fa arrivare prima di pochi secondi. Potrebbe essere questo il motivo. Ad ogni modo, visto questo risultato, non sono più tanto spaventato del fatto che sulla carta la banda passante del cavo Thunderbolt 3 è inferiore a quella dello standard PC. Quindi per chi di voi condivideva la mia stessa paura, vi posso garantire di stare tranquilli. Benissimo, adesso passiamo all'ultimo grafico. È un po' riepilogativo di tutti i risultati che abbiamo ottenuto fino a questo momento e devo dire che si spiega abbastanza bene già al primo sguardo. In effetti abbiamo un grandissimo perdente che sono i processori e in effetti a sinistra vediamo che il tempo di rendering è nettamente più alto di qualunque configurazione con una scheda grafica e in particolare notiamo anche che nonostante un processore di ottimo livello come il 3900X che è un 12 core ed è tra l'altro anche un processore desktop quindi con un TDP molto alto notiamo che non riusciamo ad andare a competere neppure con una scheda grafica integrata a un portatile come la Radeon 560X che non è un fulmine di potenza, che ha già qualche anno e che ha un consumo molto molto più basso a quello del 3900X o di processori anche più spinti. In centro vediamo che se proprio dovete fare un rendering su un portatile vi conviene chiaramente farlo sfruttando la scheda grafica quindi se state pensando di acquistare un portatile cercate di prendere un portatile con una scheda grafica interna e sicuramente non con la scheda grafica integrata solo nel processore, ok? Sarebbe una pessima scelta e poi ovviamente il vincitore di questo test sono le build che contemplano la Vega 64 chiaramente la Vega 64 è un'ottima scheda grafica, è molto più potente della 560X e quindi chiaramente è andata ad abbattere in maniera sostanziosa tutti i tempi di rendering di tutte le build in cui la Vega 64 era installata. Vi ricordo che questo corso è stato sostenuto da Virtual Atmosphere e non sarebbe assolutamente stato possibile portarlo avanti senza il loro aiuto quindi vi chiedo di andare a iscrivervi alla loro pagina Facebook, andare a vedere il sito perché ci sono davvero tante cose interessanti e potreste aiutare questo canale a continuare con la nostra attività. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video! Grazie!